benvenuto e benvenuta in questa pratica di meditazione di affermazioni positive per la gratitudine. Trova un posto tranquillo, trova il tempo da dedicare a te. La gratitudine è una pratica che se fatta quotidianamente e nel tempo diventa parte di te e la vita ti ricambierà con prosperità ed abbondanza. Saprai affrontare le preoccupazioni e problemi con uno spirito di calma e di serenità, trovando sempre la soluzione giusta per te in quel momento. Abituerai la tua mente ad essere positiva e aperta ai doni che l'universo ti offre. Esprimi le affermazioni con sentimento. Solo così ciò che chiederai l'universo ti darà. La gratitudine è un'arma molto potente per ottenere tutto ciò che vuoi. Si è praticata quotidianamente e con molto amore e gioia. Iniziamo io sono grata perché oggi sono viva. Io sono grata per il riposo notturno. io sono grata per la persona buona che sono. Io sono grata per la casa che mi offre protezione. io sono grata per il sole e la pioggia. Io sono grata per la mia salute. Io sono grata perché posso muovermi e camminare. io sono grata perché respiro io sono grata per l'abbondanza che mi circonda io sono grata per l'amore io sono grata per l'acqua che mi doni io sono grata per il cibo che ho io sono grata per le strade io sono grata per la luce io sono grata per la forza che ho di affrontare qualsiasi evento della mia vita io sono grata per l'energia che ho io sono grata per l'universo immenso io sono grata perché ho gli occhi per guardare io sono grata per tutte le creature dell'universo io sono grata per la meravigliosa famiglia che ho io sono grata per la mia macchina io sono grata per l'aria pulita che respiro io sono grata per l'aria pulita che respiro io sono grata per il coraggio e la forza che ho io sono grata per la fede io sono grata per la cura che ho per me io sono grata per il rispetto e l'amore che ho per il mondo e le sue creature io sono grata per il rispetto e l'amore io sono grata per il mio lavoro io sono grata per tutte le cose belle io sono grata perché mi amo e l'universo mi ama grazie per aver ascoltato questo video ripeti le affermazioni almeno per 30 minuti al giorno ti auguro una buona vita